Voglio dirvelo subito, cioè questa violenza non andrà ad avere nessuna tolleranza. Tutti noi hanno visto opportunisti che hanno cercato di approfittare di collere e noi sappiamo che i responsabili politici hanno il solo progetto di scotere la Repubblica cercando il disordine e l'anarchia. Nessuna collera giustifica un attacco a un poliziotto, a un gendarme e neanche il degrado al commercio o agli edifici pubblici. La nostra libertà esiste soltanto affinché qualcuno possa esprimere le proprie opinioni che altri possono condividerle e che gli altri non abbiano paura delle discordie. All'inizio di tutto questo io non dimentico che c'è una collera, una rabbia, un'indignazione e questa indignazione molti di noi, molti francesi possono condividerla e questa io non vorrei sminuirla fino ai comportamenti inaccettabili visti nelle ultime settimane. è la collera contro una tassa. Il primo ministro ha dato una risposta annullando e sopprimendo tutti gli aumenti previsti per l'inizio dell'anno prossimo, ma questa collera è ancora più profonda. Io la sento giusta in qualche modo perché può essere la nostra opportunità. Io credo profondamente che possiamo trovare la nostra voce e la nostra via per uscirne insieme e io lo dico per la Francia perché è la nostra vocazione nel corso della storia aprire un cammino che io vorrei esplorare per noi e per tutto il mondo. Io lo voglio per tutti noi, i cittadini francesi, perché è un popolo che si divide, che non rispetta più queste leggi e l'amicizia che lo dovrebbe unire è un popolo che contribuisce alla sua perdita. Io lo vedo perché è avvertendo questa crisi che io mi sono presentato a questo suffragio per riconciliare e io non ho dimenticato il mio impegno e questa necessità.